La Brescia ha tante vocazioni culturali e noi stiamo lavorando anche su una delle vocazioni più importanti, che è quella musicale. Nessuno lo sa, ma Brescia è stata la grande città della diuteria, Brescia è sempre stata una città di musicisti, ha avuto grandi momenti. Noi dobbiamo mantenere forte questo richiamo, che vuol dire non solo avere delle opportunità di avere i Brescia Summer Festival ancora, ma anche richiamare migliaia di persone che vengono dalla provincia o vengono da fuori in provincia. Brescia deve diventare sempre di più il riferimento di un territorio lombardo del nord per la sua viva città, per la sua fermescenza. Quindi recuperando anche rapporti che sono stati interrotti da lombardo. Sì, noi abbiamo fatto un lavoro in questo anno e mezzo di riprogrammazione, di pianificazione, di ricostruzioni, di collegamenti, di relazioni che portano a Brescia grandi occasioni, in questo caso anche con Alessandro Galli. Si è reinterrotto questo rapporto nel 2009 con la precedente amministrazione, abbiamo ritenuto di doverlo riattivare, abbiamo anche usato la lingua dell'orgoglio bresciano, essendo bresciani gli organizzatori, essendo presenti in tutta Italia facendo delle cose strepitose da Milano a Lucca, abbiamo detto no, voi non potete non tornare a Brescia e riconsegnare, rioffrire ai bresciani una grande opportunità musicale per l'estate. Una sfida, una delle tante sfide che, cambiando argomento, è sul tema, ieri è arrivata una proposta.